Ancora non ci siamo. La decisione del governo italiano di ridurre il deficit per il 2019 da 2,4% a 2,04% non soddisfa il commissario per gli affari europei Pierre Moscovici. Eppure si tratta di un taglio di quasi 7 miliardi, che però, come si affretta a precisare il Premier Giuseppe Conte, non andrà a intaccare né quota 100 né il reddito di cittadinanza, che restano invariati, dice, e partiranno nei tempi previsti. Dove sta dunque il trucco? Le relazioni tecniche arrivate sulle due misure indicano una minore spesa rispetto alle prudenti stime iniziali, spiega Conte. Ma non è tutto. Il Premier ammette che è stato aggiunto qualcosa sul piano delle dismissioni. A quanto corrisponda quel qualcosa, però, non è dato sapere. I due Vice Premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, non hanno rilasciato commenti dalla cena di ieri sera con Conte. Nel frattempo il Ministro dell'Economia Giovanni Tria è volato a Bruxelles, dove proseguirà il negoziato con l'Unione Europea a livello tecnico. Il percorso di Parigi, invece, non sembra essere altrettanto tortuoso. Pierre Moscovici, durante un'audizione al Senato francese, ha ammesso lo sforamento del tetto del 3% per finanziare le misure annunciate lunedì scorso da Emmanuel Macron, a patto che sia il più limitato possibile e soltanto temporaneo. Mentre nella vicina Francia il neocolonialismo di Parigi in Africa è entrato nel mirino dei gilet gialli, la Germania di Angela Merkel si è unita alla nuova corsa all'oro, aprendo una grossa base militare nell'aeroporto di Niamè, in Niger. Un paese tanto ricco di materie prime, uranio, oro, diamanti e terre rare, quanto di contingenti stranieri, dai francesi ai canadesi, passando per italiani, americani e adesso anche tedeschi. La notizia, risalente allo scorso novembre, è passata in sordina. Ufficialmente la base servirà a combattere il terrorismo e l'immigrazione clandestina. Nel frattempo si svolge in queste ore proprio a Parigi il Summit Interparlamentare G5 e Sahel, che riunisce parlamentari dei paesi che appartengono al G5 e Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Chad, e dei paesi contributori dell'Alleanza Sahel, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, oltre che i partner tecnici, finanziari e militari. Se condividiamo il concetto che troppo spesso le risorse naturali non sono geograficamente ed equamente condivise accessibili e che molte popolazioni autoctone sono state private di risorse per loro vitali durante il processo di appropriazione di risorse dall'estero, a tutto questo si deve porre rimedio con una visione rinnovata, afferma il deputato dei 5 Stelle, Pino Cabras, che aggiunge «Abbiamo bisogno di un modello economico che si sposti sempre più da partnership basate sull'estrattivismo a collaborazioni che siano vantaggiose per tutti». Il Congresso degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione sulla necessità di imporre sanzioni contro Nord Stream 2, che secondo i deputati minaccerebbe la sicurezza energetica dell'Europa, ma soprattutto gli interessi degli Stati Uniti. Ai paesi dell'Unione Europea viene chiesto di abbandonare il progetto e al Presidente americano Donald Trump di prendere tutte le misure necessarie a diversificare le forniture di gas verso l'Europa. L'appello di Washington non è caduto nel vuoto. Già mercoledì ad adottare una risoluzione contro la costruzione del gasdotto è stato il Parlamento europeo, che stravolgendo letteralmente la realtà, ha giudicato fondamentale mantenere il transito del gas attraverso l'Ucraina, reputando invece una scelta politicizzata, quella di collegare direttamente venditore ed acquirente senza inutili servizi di intermediazione. Per la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharava, la presa di posizione di Strasburgo è chiaramente una pazzia. Gli Stati Uniti sono passati all'offensiva nella guerra di informazione contro la Russia, seguita a ruota da Cina e Iran. Ad annunciarlo è Daniel Kimmich, coordinatore del Global Engagement Center, l'ufficio del Dipartimento di Stato USA, che si occupa di propaganda e di disinformazione. Su ognuno dei tre paesi lavorano squadre diverse, spiega Kimmich, specificando che sulla Russia esistono ben 25 progetti attivi e che è stato istituito un fondo per finanziare le organizzazioni straniere impegnate nella lotta contro Mosca, mentre una nuova iniziativa mira a dissuadere i paesi poveri dall'intrecciare rapporti con la Cina, accettando fondi infrastrutturali che, dice, non sarebbero in grado di rimborsare. Secondo l'analista di Stratford, Jeff Horn, i primi risultati degli sforzi di Washington sono visibili già oggi e si traducono in un progressivo avvicinamento tra Russia e Cina, in chiave anti-occidentale. Un'alleanza di tipo informale che Horn ha battezzato col nome di Intesa Orientale, con riferimento all'entente cordiale del 1904 tra Francia e Gran Bretagna. Il loro obiettivo, secondo l'analista americano, sarebbe quello di controbilanciare l'egemonia degli Stati Uniti nel mondo e di ritagliarsi sfere di influenza che contribuiscano ad aumentare la loro sicurezza e la crescita economica. Grazie per la visione!